Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. I mercati questa mattina li ritroviamo come venerdì ovvero con dei cali pesanti. Sostanzialmente quello che stiamo vedendo è un allungo ribassista forse dovuto a tutta una serie di ragioni che arrivano dall'Asia ma anche direttamente dagli Stati Uniti. La conferenza di Powell è stata un punto ma ci sono state anche le dichiarazioni di Trump. Ebbene in un clima di tensione crescente i mercati finanziari non possono che rispondere in maniera negativa. Quest'oggi le borse del vecchio contenente sono tutte in territorio in rosso e in particolare anche la borsa di Milano. In questo scenario come sempre noi andiamo a dedicarci a un qualcosa di diverso ovvero al mercato valutario dal momento che si stanno creando delle ottime opportunità. Andiamo quindi sul grafico di euro dollaro e guardate quello che sta succedendo. Abbiamo detto che per quanto riguarda il lungo periodo noi siamo rialzisti di euro dollaro. Se vi ricordate nelle settimane scorse forse la settimana scorsa avevamo detto attenzione che ci può essere un ritracciamento che può essere una buona occasione di acquisto. Posto che noi vogliamo essere long di euro dollaro quindi vogliamo comprare dobbiamo andare a individuare un livello che sia interessante per posizionarci al rialzo. Ora io ritengo che tutti i livelli sotto 1 e 12 siano particolarmente attrattivi. Detto questo per esigenza di trasmissione non possiamo metterci troppo lontani dai prezzi attuali. Io ho messo un ordine a 1,11 e 95 ma secondo me si potrebbe anche cercare di entrare leggermente più in basso. Lo stop è piuttosto stretto l'ho messo nell'ordine dei 45 punti un target invece ha oltre una figura. L'idea qual è? Se dovesse esserci una candela rossa piuttosto forte entreremo prenderemo lo stop e proveremo a posizionarci nuovamente al rialzo qualora il mercato dovesse arrivare fino in area 1,10 o anche più in basso perché ovviamente non lo possiamo escludere. Nel lungo termine ovviamente ci aspettiamo invece che l'euro possa continuare ad apprezzarsi nei confronti del dollaro americano. Andiamo quindi a vedere sul sito di BNP Paribas come si fa a trovare questi prodotti, tra l'altro prima di andare alla selezione del prodotto vi segnalo una cosa molto importante, abbiamo pubblicato sul nostro canale YouTube il video Turbo Unlimited di nuovi certificati a leva di BNP Paribas, è una spiegazione di oltre un'ora quindi abbastanza approfondita di come funzionano i nuovi prodotti, ovviamente durante questa trasmissione non possiamo dilungarci molto, se vi interessa trovate appunto questa descrizione, ma torniamo al sito di BNP Paribas, clicchiamo su certificati a leva, Turbo Certificate e andiamo nella pagina dedicata. In questa pagina andiamo a selezionare il sottostante che ci interessa euro dollaro, vi ricordo visto che siamo in prossimità della scadenza che tantissimi prodotti sono in scadenza alla metà diciamo al 19 di giugno, quindi mi raccomando evitiamo di tradare su questi tipi di strumenti, qui invece possiamo scegliere la leva che riteniamo essere più opportuna e andare quindi a selezionare il prodotto che ci piace di più. Io quest'oggi non ho voluto utilizzare una leva esagerata quindi ho preso il certificato NL0014922676 con una leva di cinque volte un livello di knock out a 0,90. Ecco per spiegare bene come funziona sostanzialmente l'idea è questa se il sottostante ovvero euro dollaro dovesse raggiungere 0,90 si annullerebbe completamente il valore del certificato che in questo momento è di 2 euro e qualche centesimo. Voliamo quindi in piattaforma come potete notare io ho già selezionato appunto il certificato il nostro livello di ingresso è a una cinquantina di pip dai livelli attuali quindi andiamo a inserire il nostro ordine a 2 euro per 500 pezzi con un'esposizione di circa 1000 euro di diciamo di certificati e l'equivalente esposizione a mercato di circa 5.000 euro quindi la metà di un mini lotto. Ovviamente sono trade didattici si poteva diciamo osare anche un po' di più ma è importante far vedere proprio il funzionamento di questi prodotti quindi andiamo a cliccare su buy e il nostro ordine come vedete è pendente quindi non è ancora stato eseguito. Per chiudere quindi per ricapitolare quella che è la nostra posizione andiamo quindi a ricapitolare l'idea di oggi è un trade a rialzo su euro dollaro entreremo long a 1,11 e 95 con stop loss a 1,11 e 50 target price a 1,13. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.